Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Invecevano all'autostrada Prudenza, Pernebi e Banchi, in A1 tra Barberino e Monte San Savino, in A11 tra Firenze e Capannori, in A12 tra Livorno e Rosignano e sull'intero tracciato della Firenze e Pisa Livorno. Per il traffico aereo, il volo Firenze-Madrid delle 7.30 è segnalato in partenza in ritardo alle 8.40. Il volo Firenze-Zurigo delle 9.55 è dirottato su altro aeroporto. Per il traffico urbano di Firenze, in settimana nuova partono tra gli altri lavori alla rete del gas in via delle forbici e potature in via Madonna della Tosse. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!